Continua la nostra ricerca della barretta proteica perfetta che, spoiler, non esiste! Billion al cioccolato bianco che tutti mi avete consigliato, presa su Prodysolice Pizza 10 per pagare di meno? 290 calorie, 13 grammi di proteine, raga, fa ridere! Valori nutrizionali pessimi! Bella e bella, c'è un fortissimo odore sia di arachidi sia di cioccolato bianco. Il mozzico è molto buono, la consistenza fa schifo, molto masticosa. Poi il molto buona già si è abbassato un po' perché sento quel retrogusto della barretta proteica salato, leggermente farinoso. La mettiamo nel microonde, vediamo se diventa meno pastosa perché io la trovo in una fatica. Vediamo se è migliorata, si è sciolta un pochino la cioccolata. È tutto molto più scioglioso ma il gusto della cioccolata bianca mi piace di meno, quindi raga, per me questa barretta non è salvabile. Ma ora, dobbiamo per forza andare a leggere le recensioni degli utenti. Riccarda è onesta, risolve un problema, prese per mia figlia che difficilmente fa colazione e se le porta a lavoro buona e sfiziosa. Ci può stare, ci può stare. No vabbè, vincitore. Valeria, ne avevo ricevuta ora in omaggio nel precedente ordine, sono così buone e morbide che ho voluto prendere. Morbide, morbide, morbide.